Davide De Luca, buongiorno. Buongiorno Livio. E bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontarci la nuova edizione di una serie di appuntamenti importanti. Perché sono importanti? Perché vanno dentro una parola che è necessaria, la parola ricerca. Ma ne discuteremo fra poco, insieme con il nostro ospite Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, che ha creato Città in Note, la musica dei luoghi, concerti, performance, talk. Tutto questo succederà a Cuneo dal 22 al 27 maggio. Quindi una settimana di musica, ma non solo Davide De Luca. Esatto, una settimana di musica, ricerca, come giustamente anticipavi tu, cultura, arte, valorizzazione. Sono le parole chiave che hanno guidato la creazione, la nascia di questa rassegna, che è arrivata quest'anno la quarta edizione con un crescendo di livello qualitativo, di livello di innovazione, di pubblico che insomma ci aspettavamo e che sta andando oltre le nostre più rosa aspettative. Ecco, io vorrei soffermarmi Davide De Luca sul concetto della musica dei luoghi. Perché si fa presto a dire la musica dei luoghi, no? Quando noi vediamo che ne so, ho scritto questo, diciamo, ah, è un modo di attirare il pubblico in dei luoghi. Però entriamo in connessione per queste due parole, perché la città in Note rende praticamente visibile e quindi vivibile questa emozione della musica nei luoghi, perché il luogo non è solamente il contenitore, come usa a dire adesso, il contenitore però viene riempito, a volte svuotato di contenuti per riappartenere al luogo in un'altra forma. Esattamente, i luoghi sono non contenitori, ma sono protagonisti attivi del processo musicale, del processo di valorizzazione attraverso la musica. Sono attivi nel momento in cui vengono utilizzati anche come veri e propri strumenti musicali. Si pensi a San Francesco, alla chiesa di San Francesco, dove le performance musicali e gli eventi musicali useranno il riverbero lungo di oltre cinque secondi che viene generato da un suono dentro San Francesco, alla chiesa di San Francesco, proprio adattando la composizione musicale, a pensare Andrew Quinn, che arriverà con grande successo, al contenitore stesso che diventa strumento musicale. In alcuni casi è un protagonista partecipe dello spettacolo, in alcuni casi è proprio obiettivo, cioè alcune musiche esaltano lo spirito dei luoghi. E dei luoghi si intendono sia i luoghi chiusi, i luoghi fisici, ma anche i luoghi di una cultura immateriale e di un ambiente all'aperto. Quindi quest'anno in particolare poi ci sarà la novità degli spazi all'aperto che entreranno nella rassegna e saranno valorizzati in percorsi di aperture straordinarie e performance musicali. E ripeto, appunto, i luoghi risuonano, i luoghi sono obiettivi di valorizzazione, la musica stessa è di per sé un luogo, un luogo di espressione. E quindi sono tutti argomenti che rientrano in un discorso coerente e programmatico per creare ricerca, arricchire e produrre cultura. E poi questa domanda è rivolta a Davide De Luca. Pensando al bagagliaio che contiene tutte quante le opere d'arte esposte nel corso del tempo della Fondazione Artea credo che sia importante, no? Perché le mostre hanno bisogno di luoghi e viceversa. È fondamentale. Una delle attività di Artea, proprio oltre alle rassegni musicali e spettacoli al vivo, è appunto produrre grandi mostre. Peraltro quest'anno saremo a breve ad annunciare l'autunno espositivo di Fondazione Artea sul territorio. E certamente i luoghi sono gli elementi fondamentali con cui qualsiasi forma di valorizzazione, produzione culturale, espressione artistica deve dialogare. Io vorrei ritornare però sul tema del luogo e San Francesco, no? Vado a dire, quando è stato pensato di fare questo concerto all'interno di questa chiesa straordinaria, già a livello architetturale, no? Dicevi poco fa, del suono che si riverbera per più secondi. Ora, immaginare un concerto all'interno di questa chiesa non vuol dire semplicemente pensare a un artista, pensare a una data e scrivere il nome dell'artista e la data sul programma. Qui avete pensato e di qui entriamo di nuovo nella parola ricerca. Qui avete lavorato molto per questo. Moltissimo per la qualità del luogo e per l'importanza che il luogo riveste nel panorama culturale, ma anche storico, identitario della città di Cuneo. Lo studio e la ricerca è stata molto approfondita e ringrazio anche i curatori e i direttori artistici della rassegna Claudio Carmoni e Carlo Maver. In questo caso ringrazio anche il conservatorio, il dipartimento di musica e elettronica del conservatorio di Cuneo Ghedini perché si va dalla musica performativa, dalla performance immersiva di Andrew Quinn di maggio, del 22 maggio alle 10.45, quindi in orario pre-notturno, in orario serale, in cui il complesso monumentale di San Francesco sarà abitato da una performance immersiva alla creation du monde di Bernard Parmigiani, che è un capolavoro acusmatico dell'84, su cui il compositore francese li percorre appunto la storia dell'universo dal Big Bang fino alla comparsa della vita dell'uomo. In questa rappresentazione, in questa performance, si alterneranno appunto musica elettronica con musica classica, musica di vario genere e quindi con uno studio e una ricerca rivolta direttamente alla comprensione di San Francesco, ma San Francesco ospiterà anche Sacro Profano nella Salisburgo del classicismo musicale, quindi andrà proprio su un altro versante, su un altro ambito, venerdì 24 maggio, con l'orchestra dell'Accademia Montis Regalis, con un programma dedicato alle immortali note di Mozart e quindi si andrà proprio sul classicismo, sul classico puro. Però c'è anche la possibilità di avere un confronto, perché se la giocherà tutta quanta la podcaster, ahimè mi sfugge il nome, Margherita De Valle, che con la sua verva, la sua bravura e passione, straordinaria conoscenza e simpatia, ci introdurrà nel mondo della musica. E come? Chiudendo e aprendo, chiudendo il percorso di formazione per i giovani, ricordo che Città è a prodo di un percorso di formazione per i giovani comunemente chiamati non target, brutto come termine, ma rende, non target del mondo culturale musicale, giovani adolescenti delle scuole della città di Cuneo, che sono accompagnati in un percorso che si chiama The You Factor nella empowerment, nella formazione, su cosa vuol dire produzione culturale e in questo caso in ambito della musica. Quindi i giovani si sperimentano sia teoricamente che anche praticamente, poi saranno anche volontari nel festival di Città in Noto, su cosa vuol dire fare musica, produrre musica, ascoltare musica, eccetera. Noemi sarà l'artista ospite dell'ultimo talk di The You Factor, che comprende appunto una serie di talk organizzati dagli studenti stessi per i giovani, quindi esclusivamente focalizzato a chiudere questo percorso formativo, un talk in cui si parlerà di musica, della sua esperienza musicale appunto con Margherita De Valle, della sua esperienza musicale di Noemi e del suo percorso di metamorfosi, che è anche oggetto del suo ultimo disco. Noemi aprirà subito dopo, la sera del 22 di maggio al teatro Soselli, Città in Noto, e con il suo concerto creato ad otto per Città in Noto, in solo con un pianoforte. Quindi sarà un evento molto, 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 molto atteso, peraltro è quasi tutto sold out. A proposito di prenotazioni, tutto quanto succede con le prenotazioni su Ticket.it e dicevi che già per esempio Noemi è sold out e sarà a San Diero ovviamente, e ovviamente, altrettanto ovviamente dobbiamo pensare ai prossimi appuntamenti e prenotarli su Ticket.it, però vorrei tornare su Youth Factor, perché non è altra cosa rispetto a Città in Noto, perché Youth Factor ci porta a Città in Noto e Città in Noto ci porterà verso altre esperienze, perché Fondazione Artea, mi sembra di capire, che non crea degli eventi a sé stanti. C'è un filo che li lega tutti quanti, questo credo che sia molto importante da sottolineare, Davide De Luca. Sì, assolutamente. Youth Factor quest'anno si è focalizzato sul tema musicale, in particolare sul tema della musica autoniale e sull'immagine, che è il tema conduttore del percorso di quest'anno. Abbiamo avuto una serie di testimonial che hanno arricchito il percorso di Factor raccontando come la musica, abbiamo avuto Pivio per esempio, come la musica sia un'arte fra le arti, uno strumento che collega e mette insieme le varie forme e linguaggi artistici, l'immagine, cioè le arti legate all'immagine, sono uno degli esempi. Pensiamo all'immagine cinematografica, i film e la produzione cinematografica, in cui la composizione musicale, ed era questo l'argomento di Pivio, l'elemento musicale dà senso all'immagine. Quindi diverse immagini, in particolare nel mondo del cinema, con diverse musiche restituiscono sensazioni ed emozioni differenti. Pensiamo quindi alla potenza di questo strumento, di questo mezzo artistico, ma anche attivatore di emozioni, che è la musica. Ed è proprio questo aspetto, il fatto di essere uno strumento cosmetico, quindi che si fruisce anche indipendentemente, diciamo in multitasking, indipendentemente da quello che si fa o altre cose che si possono fare, rappresenta uno degli elementi, degli strumenti privilegiati per una forma d'arte. Ed è proprio quell'elemento lì che ci piace di più, cioè la musica, come strumento di valorizzazione, oltre ad essere arte in sé, che è alla base poi di tutto città in note. Hai detto due volte una parola importante e vorrei chiudere questa conversazione proprio entrando dentro il significato di questa parola, una parola che ci porta molto indietro nel tempo, aversino se ricordo bene la scuola pitagorica, quando i discepoli ascoltavano il maestro parlare dietro un velo. E nell'arte accusmatica il velo è una metafora dell'altoparlante. In altre parole, che cos'è l'accusmatica, la musica cosmatica. E la musica cosmatica, diciamo, il criterio cosmatico è quell'aspetto per cui la musica si può ascoltare, cioè tutto il suono in realtà, più che la musica, il suono si ascolta anche mentre si può fare, mentre si svolgono altre attività. La musica entra in rapporto con il tuo livello di esperienza, conoscenza, emozione. Pensiamo per esempio quando si guida l'auto, non si riesce a guidare tranquillamente l'auto, ascoltando la musica. La musica non distoglie dalla guida dell'auto. E questa caratteristica, cioè il fatto di avere la musica come atmosfera in cui ci si muove e che non distoglie da altre attività, rende la musica molto più permeabile, pervasiva, in senso positivo intendo, diciamo nell'identità individuale, nell'essere umano. Ed è un valore potentissimo che questo mezzo ha. Davide De Luca, prima di salutarci, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo una serie di libri, ma mi sto dedicando a Tutankhamon, che è l'ultimo libro di Christian Greco, un percorso di ricerca su questo personaggio storico, ormai diventato un po' mitologico, ma l'approccio di Christian Greco è un approccio sicuramente da archeologo scienziato, ma che vuole non smitizzare, ma che ha una capacità di rendere, di porre l'accento sugli elementi che, oltre al mito di Tutankhamon, poi hanno reso la scoperta della tomba, la scoperta di questo personaggio, anche una questione eticamente molto importante, già solo il fatto che una tomba che era destinata a rimanere chiusa per l'eternità, un corpo che doveva mantenere della propria interezza, perché altrimenti non sarebbe asceso alla vita all'aldilà, e invece l'approccio archeologico dell'epoca chiaramente comunque ha svelato quello che non doveva essere svelato, peraltro anche in qualche modo deturpando la salma, senza stare a scende troppo nel dettaglio, ci pone degli interrogativi molto importanti, non solo sul tema dell'etica dell'archeologia e di come la conoscenza deve utilizzare la massima sensibilità e attenzione anche ad argomenti che vanno oltre la mera ricerca scientifica, ecco, oltre alla conoscenza oggettiva delle cose ci sono elementi che ci rendono umani, no? E quindi questo è l'aspetto che mi interessa molto. Qui entra il rispetto dei luoghi, no? In senso lato, il rispetto del luogo che niente meno era la tomba del giovanissimo Tutankhamon. Grazie davvero Davide De Luca e buon lavoro. Grazie, grazie a te Livio. Grazie a te Livio.